Per favore, per favore, un po' di silenzio, abbiamo quasi finito. Signora, ma l'educazione è questa bambina? Ma attaccata la un cavolo! Silenzio, per favore! Beh, allora questi ultimi minuti per comunicarvi i risultati delle votazioni di giovedì. Allora, favorevoli 422, contrari 1. La seduta è conto. Signor Loris, dica, siamo in democrazia, ogni inquilino può esprimersi, può prendere la parola. Quindi dica, signor Loris, comunque la maggioranza ha deciso. I lavori cominceranno entro sei mesi con la stessa impresa. Grazie. Sarò istantaneo. Dicevo, sarò istantaneo. Mi si accusa di avere un comportamento poco consono alla civile convivenza democratica condominiale che qui di seguito espongo. Articolo 1. Mi si accusa di appiccicare le chewing gum negli spioncini delle porte condominiali. Non è vero di confondere le lettere nelle buche delle poste condominiali, di pulirmi le scarpe sui tappetini degli altri condomini. Nonché, amati colleghi, di appropriarmi delle lampadine condominiali per uso privato. Nonché è ben più grave di scrivere e spedire lettere anonime al qui presente e amato amministratore. Non è vero, non è vero. Amatissimi colleghi, quanto all'articolo ultimo, visto il mio voto contrario all'installamento in giardino delle statuette di Biancaneve e i sette nani, mi si accusa del furto di uno dei sette nani, nell'accezione precisa del nano denominato Mammolo. Ma io non so neanche chi è Mammolo. Io rubare Mammolo. Andiamo, amorosi colleghi amatissimi. Ragioniamo. E beh, io lo confesso, votai contro. Votai contro l'installamento in giardino di Biancaneve e i sette nani in quella ormai storica riunione. Votai contro, poiché gli 8 milioni e 100 mila lire preventivati di spesa dal qui presente amministratore, per Biancaneve e i sette nani, mi sembravano un furto, una ladroneria, una truffa. Signori, stimati amici meravigliosi, qui ci vuole area nuova, ci vuole freschezza, ci vuole pulizia, serenità. Signora, in una parola, un nuovo amministratore, un nuovo amministratore, una persona, un amministratore che vi abbassi il tetto della rata condominiale al massimo del 30%, che crei nuovi posti condominali nei condomini, una che vi organizzi feste nelle terrazze condominali, ma da divertirsi la sera, che vi, una persona retta, pulita, onesta, intelligente, trasparente, cristallina, garantita, un garante. Signori, signori, è con estrema umiltà, con estremissima umiltà, che mi propongo come nuovo amministratore. Non fa smaltare un forte intervento, non fa smaltare un'idea, non fa smaltare tutto il fianco, non fa smaltare tutto, non fa smaltare tutte, non fa smaltare un bar costituzione al slapante, che sa smaltarsi soit sourate, non fa smaltare un valore, non fa smaltare tutti, Fermi, lei è un ladro! Ladro, hai voti? Hai voti? Hai voti? Suelle, no! Suelle, no! Ah! Signori, io insisto nel propormi a voi come nuovo amministrato! Ah! 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 Ehi, chiude! Ah! Che sottossilopato! Che... 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 come... Vaffancula la maggioranza!